Coltello della ChemBlades Spaziatori in acciaio Clip per cintura La lama e la manicatura sono in acciaio satinato La chiusura è Linear Lock La lama ha una lunghezza di 8 cm circa La manicatura ha due guancette in legno Clip per cintura Clip per cintura Clip per cintura Clip per cintura